Partiti in due reti, provincia Mosa di Firenze, grande squadre, a voi e a voi, team team, siamo alla passazione di metà gara, la ultima cura per ora e l'ultima in linea, ed ecco i tempi, per il numero 5, il turno 19, 17, partiti in due reti, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.